Oh, non muore! Ciccione! Non si dice, un po' di shaming. Ray. E dopo che te la sei inculata, bravo. Musio in peace. Sì, ci vado al Libertone, ma mi serve un'arma. 1500, ma il cazzo la com... Questa costa meno, vero? 600. Quanto costano i colpi? Ok. 51 colpi. Almeno potrò raccattare qualcosa da qualcuno. Che devo fare? Ah, e per la cronaca ovviamente, essendo rimasto con 17 dollari, non posso neanche prendere... Il taxi, se no mi ricercano, a parte che non costi... Una cifra al viaggio. Ditemi che non mi ricercano all'arrivo perché... Sclero, giuro, sclero. L'autista ti porterà fino a dove puoi permettertelo, va bene. C'è un'arte con la ragazza, mi tocca... Quel bastardire boccino non paga un cazzo. Ok, c'est Prisa, 4129, 9808, 5665, 1234, e per te date 1108. Great, we'll keep that very secure. Oh yes, the ghost wave is telling me that I never get tired of meeting straight. Now 500 dollars sounds like a lot of money. Love you? Just a moment pass. Hey, hey, what's the deal? No, 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 it doesn't mean anything. Send the line, go for it! Sapete vero che possiamo fare un incidente e se non muoriamo tutte e due muore lui e devo andare a piedi. Bello, che fantastico. Vabbè, dai. Poteva andare peggio. Mi ha portato in realtà abbastanza vicino. Pensi che ci andremo a piedi con una pistola e 0 dollari. Cioè, fantastico, penultima missione e 0 dollari. Gang. Entrano in libertà, da qua, per forza. Non ditemi che c'è gente che prova a contrastarmi perchè non ci credo. non ci credo. Oh. Oh. Hey there. Rai senti. Posso anche andare armato in un museo. Fantastico, cioè questo non ti caga. Almeno ce l'ho giuppotto gratis. Di qua, sotto che c'è Nico. Ciao. Il kit medico non mi serve E nemmeno Ti ho rapito il cusino ieri Maury, come qui Maury, come over here Since we're having a little show and tell, let's see some money Of course, no problem There it is, beautiful, huh? Unmarked bills No history, no need to launder Good, Nico, show them the stuff Get in there, Maury Isaac, look at them Gorgeous, huh? Like condensed money Isaac, these are great Luis No No Creatività Devo scappare O combattere? No, perché Devo combattere Ah, tutte e due, ok 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 Mi servono tutte le vostre armi Vabbè Vabbè, meno un po' di munizioni va fatte Oh Vieni via Vieni via Vieni via Vieni via Lasciami l'arma No Ok Mitaglietta Acquisiamo le armi E c'è il pomper? Oh, non muore Ciccione Non si dice O di shaming Comunque Oh Nem è morto sto qui Qualche medico Non serve Di qua c'è già passato Nico Tu me lo facessi mirare? Grazie Ok 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 Tre colpi Sufficienti Anche le bombe Che bello Invece ha avuto pazzesco sta missione qui Giuro Vieni Beh, dai Non ho proprio ottenuto quello che volevo Il livello di armi Ma Ci si accontenta Sessanta Buoni Non male ho recuperato qualcosa Non male che non colpo la testa Muoiono Più o meno Proviamo i mafiosi Bene Vorrei tanto sapere come li prendo Con 89 colpi di pistola normale Voglio vedere proprio come li prenderò E con la ruota bucata pure Oh Dio Che tryhardaggine che mi ci vuole Vuole uno Ovviamente chi ci mancava No Chiedo aiuto al pubblico Chi ci mancava Ovviamente La pula no Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni che ti richiappo Non male si ha tolto le coglioni Ragazzi se posso sta missione qua senza mai fallirla Cioè veramente dovete farmi un monumento Cioè Neanche nazionale Intercontinentale Dovete farmelo un monumento Eh vabbè Sì La polizia Ren segue anche loro però eh Non li segue Fantastico Sparo io Ce l'ho subito addosso Sparano loro Nah Ok Care bocina Amico dei poteri potenti Però insomma Ho di equità Ha ricaricato Abbiamo mirato la testa Vaffanculo Tanto due stelle Sono mie no Giustamente Buono Fanculo Torniamola Godo Io spero di ricevere due soldi dopo questa missione Perché sennò c'è io Come cazzo la faccio l'ultima Senza armi Senza niente Nooo Nooo Mamma mia che Hanno l'accelerazione di me In ginocchio Ste macchine qui Non rompetemi le palle adesso eh Ok Godo Mancano quei due E sono lì che mi aspettano ancora Fantastico Vieni Vorrei uno Bello Bello Perché 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 sono dovuto andare Inseguire Quelle macchine Buona Quattro colpi di mitraglietta Sono messo malissimo E zero dollar in tasca soprattutto Ho dovuto tryhardare un botto sta missione Però ne valsa la pena alla fine Dai Jim ma almeno te mi paghi Vieni 10.000 Non posso Essere insoddisfatto, ecco Almeno Posso prepararmi a comprare qualcosa Onestissimo Tipo Pareva ad essere me Gli ultimi giorni prima dello stipendio Che non ho più un euro in tasca Manco per mangiare Traiardo tantissimo, arriva lo stipendio E adesso si sboccia Un'commissione per race coming Buona Io ragazzi vi ringrazio Lasciate che al video, iscrivetevi al canale E ci vediamo alla prossima Che ormai, vi ripeto, lo sapete Siamo alla fine Grazie ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti